Prima volta a Fiorenzuola nella storia azzurra e c'è la prima maglia da titolare per Milicevic, involontario protagonista del caso Ribelle. Questo obbliga peraltro Ginestra a cambi in altri reparti, così è la difesa a presentare Bini e Matrone per la linea verde assieme a Nocentini, con pezzati in panchina al pari di Lischi. Nessuna resa, lancia al messaggio la gradinata Marco Sestini, giunta anche da ultima in classifica in rappresentanza importante. La squadra con un inedito 4-1-3-2 risponde con l'allarme procurato al portiere Vagge dopo quattro minuti. Il rischio autogol però sventato da costui. Un giro di lancette, ci prova Mugelli dal limite, botta deviata all'angolo basso, l'estremo vola a deviare in corner. Il croato Milicevic quindi non approfitta di un errato rinvio rosso-nero girando sul fondo il traversone operato da sinistra. Altra occasione quindi per il numero 9, traversone di Camillucci, incornata debole a centro area, nessun problema ancora per Vagge. La ripresa vede un miglior approccio rispetto al primo tempo per il Fiorenzuola. La cross da sinistra, Pezzi non arriva alla deviazione sotto porta. Da palla ferma Morbidelli prova quindi a replicare la magia, riuscita con la Rignanese in terraverdiana. L'imitazione però è quella di Paganini, quindi niente replay e sfera sul fondo. L'occasione più importante fino a questo momento arriva negli ultimi minuti del match. Corner di Guglieri, svetta Bagaglini a centro area. Grosso è salvato dal palo, poi la difesa sulla respinta libera. Quindi Grosso anticipa anche Pezzi al limite dell'area piccola sul nuovo assist di Contini. Nella circostanza il portiere rischia persino l'infortunio. Ma ecco che c'è Casolla subentrato a Morbidelli ad anticipare Bagaglini. Minuto 45 al limite, inserirsi in aria e superare Vagge sul primo palo. Gol con ammunizione presa per la maglia gettata via. Ma la rete del vantaggio varrebbe molto di più. Non fosse che al terzo minuto di recupero la gamba tesa gli costa il secondo giallo di giornata. e quindi la doccia di poco anticipata. Così tocca a Grosso salvare ancora il risultato sulla stoccata di un altro neoentrato. Bocciway respinta sulla linea e tre punti conquistati. Ma negli spogliatoi però attenzione alle parole del capitano Mugelli. Una sorta di ultimatum al patron perpignano.